Il fiume dei soldi ha lasciato traccia e seguendolo la procura di Roma ha trovato un tesoro illecito qua e là, in Italia ma anche in Belgio, Inghilterra e nei Caraibi. Una storia intricata che ha portato in carcere il re delle slot machine Francesco Corallo ed il politico diventato suo tesoriere, Amedeo Laboccetta, ex parlamentare PDL. L'inchiesta ha soprattutto svelato il mistero giudiziario che ha tenuto banco nel 2010 e nel 2011 con la famosa casa di Monte Carlo di proprietà di Alleanza Nazionale e venduta al cognato di Gianfranco Fini, secondo IPM, con i soldi sporchi del business delle slot machine. Corallo, classe 1960 catanese ma vissuto nei Caraibi un padre chiacchierato perché amico del boss catanese Nitto Santa Paola nel 2004 riesce ad ottenere le concessioni per gestire il 40% del gioco lecito in Italia. In pochi anni piazza 73.000 macchinette mangiasoldi in tutta Italia ma non versa tra il 2004 e il 2008 il prelievo unico erariale ovvero quanto dovuto allo Stato in quanto concessionario. Sono 85 milioni che vengono spezzettati e passano di società in società, versamenti a 4-5-0 a società fantasma con sede nei paradisi fiscali. Tra questi ce n'è uno indirizzato a una delle tre aziende offshore di Giancarlo Tulliani, il cognato di Giancarlo Fini. Soldi che sono serviti ricostruiscono gli investigatori romani per comprare la famosa casa di Boulevard Princess Charlotte, pagata 330.000 euro ad Aenne. Una vicenda che ha tenuto banco per mesi e che ha accelerato il declino dell'ex presidente della Camere. Le indagini hanno svelato anche il prezzo a cui è stata rivenduta la casa 1.360.000, quasi 5 volte più del prezzo pagato da Tulliani per acquistarla. Nel vorticoso giro di soldi di Corallo compaiono anche bonifici personali a Giancarlo e Sergio Tulliani, quest'ultimo suocero di Fini. Corallo avrebbe accreditato ai Tulliani su un conto corrente estero circa 2.400.000 euro per una consulenza che gli inquirenti giudicano fasulla. In un hard disk trovato dagli investigatori nella casa di piazza di Spagna di Corallo, accanto alla cifra compare la dicitura Decreto 78-2009, un decreto che ha favorito in qualche modo i concessionari di slot machine. L'imprenditore continua nei suoi affari e dal 2008 al 2014 non paga le imposte sui ricavi. Altri 150 milioni che prendono il volo verso l'estero. Ci sono in ballo talmente tanti soldi che Corallo, parlando con un altro concessionario, dice a questo punto non resta che ottenere la licenza per stampare denaro. La sponda politica di Corallo sarebbe stato Amedeola Boccetta, ex parlamentare coordinatore del PDL a Napoli. Di lui si ricorda l'affannoso tentativo di salvare il computer di Corallo da un sequestro, opponendo la sua immunità parlamentare. Corallo e La Boccetta sono stati arrestati questa mattina. I tulliani sono indagati, devono rispondere di riciclaggio transnazionale di denaro.